Diffondere la cultura e la conoscenza delle cure palliative, promuovere la ricerca, proporre le strutture necessarie e sostenere quelle già operanti. Queste le finalità per le quali, otto anni or sono, a Bolzano, è nata l'associazione Il Papavero Dermon, un sodalizio senza fini di lucro, incentrato essenzialmente sul volontariato. Le aree di azione nelle quali si muove sono essenzialmente tre. Uno è il sostegno dell'ospis, vero e proprio, quindi con la fornitura per esempio di tutte le cose che servono per l'accoglienza, quindi le caramelle, le riviste, il caffè gratuito per esempio, ma non ultimo l'arredamento per il rinnovo dell'ospis, così come di tutte quelle necessità che ha l'ospis proprio per la vita quotidiana. Il secondo aspetto del quale noi ci occupiamo è la formazione, la formazione sia dei volontari, che è indispensabile perché ovviamente si trovano a contatto con delle emozioni estremamente importanti e forti, quindi devono essere in grado di affrontarle, ma anche del sostegno della formazione del personale che lavora all'interno dell'ospis, quindi delle attività professionali all'interno dell'ospis. E la terza area, che è una di quelle che ci impegna di più, è sicuramente la divulgazione della conoscenza delle cure palliative. E questo lo facciamo attraverso iniziative che possono essere eventi, manifestazioni sportive, piuttosto che incontri culturali o conferenze che ci permettono di parlare con la popolazione. Da due anni a questa parte l'associazione ha una nuova sede in piazza Firmian 1A, nell'omonimo quartiere, dove ovviamente è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione e dove è stato allestito anche un apposito spazio per i corsi di formazione. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, attualmente non c'è carenza di volontari, anche se di volontari comunque c'è sempre bisogno, puntualizzano gli addetti ai lavori. Ma in questo momento, proprio una carenza no, certo che più siamo, più cose possiamo fare, perché in questo momento noi ci occupiamo sia dell'assistenza all'interno dell'ospis, sia della parte informativa, che è uno degli obiettivi della nostra associazione. Mentre se fossimo di più potremmo realizzare, sia per quello che riguarda la promozione e la divulgazione, sia per quello che riguarda l'assistenza, quindi aumentare le ore di presenza in ospis, chiaramente sarebbe un vantaggio per tutti. Attualmente la nostra presenza in ospis è limitata a degli orari giornalieri, che sono quattro ore al giorno, perché di più non è possibile fare con il numero che abbiamo. L'associazione, che oggi conta più di 500 soci, è entrata a far parte della Federazione Nazionale Cure Palliative, che raccoglie oltre 60 associazioni che operano nel settore.